Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale! Nella top di oggi andremo a scoprire tutti quei giocattoli che nel corso degli anni sono stati causa di gravi lesioni ai danni dei bambini e per questo motivo alcuni di essi sono stati ritirati dal mercato ma molti sono in vendita ancora oggi. Ma prima di cominciare ecco i nomi dei due che hanno risposto in modo corretto alla domanda nello scorso video che sono Nico Michaeli e Spazio Nabbo e ricordate di guardare attentamente fino in fondo anche questo video perché al termine ci sarà come al solito una domanda e i primi due che risponderanno in modo corretto verranno nominati nel mio prossimo video. Prima di cominciare una piccola curiosità sapevate che negli Stati Uniti è vietata la vendita dell'ovetto Kinder perché è ritenuto troppo pericoloso per i bambini quindi secondo loro è più prudente dargli la patente a 15 anni e avere la possibilità di trovare armi da fuoco dappertutto anziché mangiare un ovetto di cioccolata. Eh già, comunque iniziamo subito con la classifica. In decima posizione, il piccolo chimico. Conosciutissimo e venduto in tutto il mondo esiste da anni ma solo con il tempo sono stati migliorati gli standard di sicurezza per i bambini. Nelle prime versioni fabbricate negli Stati Uniti attorno agli anni 40 erano contenute sostanze tossiche come l'acido cloridrico e il nitrato di potassio uno dei materiali necessari per creare la polvere da sparo. Nel tempo non sono stati pochi i casi di ustioni di terzo grado e addirittura di stacco della retina nei bambini che ci hanno giocato. In nona posizione, le Moon Shoes. Queste scarpe particolari erano state ideate prendendo come esempio il modo di camminare dei primi uomini sulla luna. Ideali anche per i piccoli equilibristi in erba dagli anni 70 in poi non hanno fatto altro che mietere vittime. La prima versione conteniva diverse parti in metallo ed ha causato diverse fratture, stiramenti e distorsioni. In ottava posizione, la spada dei Power Rangers. Chi è nato negli anni 80 proverà di certo una gran nostalgia verso quella serie TV ma non sarà lo stesso per chi ha giocato con quest'arma poiché il giocattolo è retrattile. Infatti furono frequenti i colpi inaspettati al viso che nei peggiori dei casi hanno causato gravi ematomi e addirittura perdita degli occhi. In settima posizione, il kit per le impronte digitali di CSI. La serie TV ha avuto un successo mondiale e longevo ma altrettanto non si può dire del gioco ispirato agli investigatori d'oltreoceano. Si scoprì infatti che la polverina che permetteva di scoprire le impronte digitali conteneva della tremolite, uno dei tipi più pericolosi di amianto esistenti in natura. Per questo motivo, il prodotto uscito nel 2007 fu subito ritirato dal mercato. In sesta posizione, il dolce forno. È un vero gioco di culto che ha accompagnato diverse generazioni. Nelle sue ultime versioni, forse ha addirittura peggiorato i propri standard di sicurezza. Infatti, un modello uscito nel 2007 fu poi ritirato dal mercato perché tendeva a surriscaldarsi troppo facilmente. Numerosi sono i casi di bambini che dopo aver esagerato nel giocarci hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado. In quinta posizione, la bambola vorace. Lanciata sul mercato nel 1996, è una bambola tra l'altro piuttosto bruttina che poteva masticare qualsiasi cosa le si desse da mangiare. Compresi i capelli e le dita delle piccole proprietarie alle prese con il loro istinto materno. Programmandola un po' meglio o magari con un bottone d'emergenza si avrebbe potuto ovviare a questo problema e avrebbe potuto funzionare bene. Ma evidentemente, chi l'ha concepito il giocattolo non ci aveva pensato. Fu ritirata dal mercato appena l'anno dopo. Meglio così, di bambole brutte ne esistono già troppe. In quarta posizione, Metal Casting Set. Era un simpatico kit per fabbricarsi da soli i propri soldatini di piombo. Una divertentissima operazione che richiede di fondere il piombo a più di 300 gradi. L'ideatore di questo gioco non aveva probabilmente pensato che far giocare dei bambini con delle temperature così alte poteva essere alquanto pericoloso per l'oro e per la casa che poteva prendere fuoco. Ed inoltre, probabilmente non sapeva delle salazioni tossiche sprigionate dal piombo fuso. In terza posizione, le Acqua Dodds. Fu il gioco dell'anno 2007 in Australia. Un vero successo commerciale, almeno all'inizio. Si tratta infatti di perline che si solidificano nella forma desiderata quando vengono bagnate con dell'acqua. Queste si solidificano anche quando vengono a contatto con la saliva e vengono ingerite. Cosa che fecero numerosi bambini australiani, procurandosi dolorosi mal di pancia ed ostruzioni intestinali. In seconda posizione, il kit per soffiare il vetro. Affascinante, divertente e distruttivo. In effetti, maneggiare materiale a 500 gradi di temperatura è decisamente istruttivo per un bambino. Si capiscono velocemente le regole di base della sicurezza personale. Ed un'ustione di terzo grado può risultare davvero qualcosa di molto affascinante. Resta da trovare il lato divertente della cosa, che probabilmente bisognerà chiedere all'inventore. Ed in prima posizione, il piccolo laboratorio atomico Gilbert U-238. Il piccolo chimico a confronto è davvero un gioco per neonati. Questo laboratorio nucleare in miniatura, che fu prodotto negli Stati Uniti, rimase sul mercato solo nel 1959. Il motivo? Semplicissimo! Nella confezione, erano inclusi un contatore Geiger, quello che serve a misurare la radioattività degli oggetti, e campioni di sostanze altamente letali e radioattive, come uranio e plutonio. A questo punto, penso che sarebbe stato meglio regalare a tuo figlio un pacchetto di sigarette. Beh, alcuni di questi li ricordo e penso che di averci giocato anche io, come ad esempio la spada dei Power Rangers, ma altri credo che non siano mai arrivati in Italia. Voi fatemi sapere nei commenti se avete mai giocato con qualcuno di questi giochi, e se avete mai avuto qualche incidente causato dai giocattoli. Ed ora, passiamo alla domanda di oggi. Mi dovete dire qual è la sostanza pericolosa che era contenuta all'interno del kit per rilevare le impronte nel gioco di CSI? Vi ricordo che i due di voi che risponderanno correttamente alla domanda verranno nominati nel mio prossimo video. Spero quindi che il video vi sia piaciuto, in quel caso ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici, se vi va aggiungetelo ai preferiti, e noi ci vediamo al prossimo video.